I soliti gnoti, liceo i classici europei, seconda. Azione! Ma che vuoi? Buona! Rubare un mestiere impegnativo! Voi, al massimo, potete andare a lavorare. Ma lavorare è stanca! Oh, non la voglio. Che buona! Ma che è? Che pastezzezzi! Come si apre sta parattola? Ecco uno degli scassinatori. Oh, tira! Tira così! Ma c'è pure il ghiazzo, beh? Ci sono i quattro moltini in una scaldantina? Secondo me, però, una boccia di sale in più ci vorrebbe. Spassionatamente! A me non mi pare! Delle mie parti, diciamo. Fin me una piccante, pigliatella panamante. Fin me una cuciniera, pigliatella pomogliera. Ragazzuoli, mi sa che qui abbiamo rotto la canela del gas! Nonno! Un». A me non mi papa! E' ma a un'ora! What. Uniberbgiature? Uniberbgiature? Uniberbino? Uniberbgiature? Uniberbidu? Grazie.